Il gioco di Fedà sarà perduto l'inverno, una stagione perduta in Piancia Portamonte del Sattè. Il bilancio della Fiocchetta di Kestan, non c'è da scontentare tracce, è di segura negativa. A buon conto con l'esciuta suonosa, i problemi non sono finiti. Che accorre adesso la fontana di Pente Avez che non lega a Cianacei. La fontana di valuta per la condotta, da 11 litri al secondo, già sarà da andando fuori per rischio di intensiamento di idrocarburi. Che adesso da Pizzer, il gasello che viene fuori dalla cisterna dei 2.000 litri della cava di Pianna Trevisan, resta con l'impianza sotto la levina, viene da giù dal vernello ai prummi di Fire. Che anche Zakan è stata trovata la cisterna al dodo in controllo e veniva fuori che non ha presa peccato 600 litri di gasellac, che vuol dire che si è saluta fuori tra le neve dintorno. La zona è stata bonificata dalla servizio che gestisce la cava, a buon conto abbiamo il pericolo di intensiamento dell'ega che ruota il buon starlight di Cianacei. Sul posto le sarò i tecnic dell'ARPAF di Trent per valutare la situazione. Già metto un'esame sulla fontana e sull'ega della Veis, da man del servizio geologico della provincia, che per indena adatta sempre esit negativi. Lega che ruota teleprese la è a moneta. Noi per precauzione ci sono in accordo con la protezione civile. Ho escluso una delle sorgenti che alimenta la presa, la sorgente che ci ha legato più in superficie e questa è stata esclusa dalla presa le altre sorgenti che ci ha invece legato dal monte. In più, la protezione civile l'ha fatta dei pozzi piezometrici più a monte per intercettare eventualmente l'ega in Quineda. La situazione l'è sotto controllo e il pericolo che il gasellac ruota in scena alla fontana le dà il buon mindare. A buon conto in dena al Comune ha già dato mandato a studiare dei Trent di trovare una nuova fontana che viene legata la condotta e di mettere in essere un progetto di massima per stimare i costi di intervento da portare davanti appena mai le possibili. Non sono neanche metto in essere un par di scommensative per poter integrare l'acquedotto con altre ega. Una che è eventualmente più immediato e più veloce è quella di poter ottenere l'acquedotto dell'impianto dei nevamenti del Champage. In più, ho presentato un progetto che per intanto l'è di massima alla protezione civile. Ho la che sempre nella zona del rio Champage si potesse fare una presa e poter collegare all'acquedotto comunale. Soccorrivo Molивают Molito Moluto Molang Moluto Moluto